Carlo del Milone e questo anno celebriamo i 10 anni del Carlo di Salvatore Silvio e il quarto di Milone Maria, armonia della famiglia detto tutto, poi i segni di vedete vi spiego Salvatore, ora e anche nei giorni che opererà armonia della famiglia quello che manca spesso nella famiglia è l'armonia cantiamo nei campi del pentagramma come diceva Francesco qualche volta l'ho in un piastro oppure andiamo sotto il pentagramma si spegne l'amore invece dobbiamo tenere tutte le notti in armonia e in questo ci può aiutare la Madonna nella famiglia cristiana e poi questo caso ricorda anche il sessantesimo dell'incortazione abbiamo bisogno che nella biologia ci siano le donne che pensino la biologia e quindi noi avevamo anticipato il Papa avevamo dato il Carlo alla donna e questo è il tempo che abbiamo anticipato il Carlo anche il Carlo delle donne il Carlo delle nostre donne Maria Madre Celeste che si è un sacerdote quello che ho voluto dire 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 quello che ho voluto fare la prima parte va bene venite qua i sacerdoti di saluti risaludiano peggio ma di natura nessuna tenatura è bella come te frega le buonanità frega i figli fiori madre e fiori prega per noi Gesù prega per noi Gesù sei madonna Madonata, sei Madre di Gesù, prega per noi Maria, prega per i figli, Madre di tutto voi, prega per noi Gesù, prega per noi Gesù, prega per noi Gesù. Come avviso, visto che siete tante e sicuramente poi la voce passa, noi quest'anno avevamo pensato di fare la mosca delle carri miniature con la precezione. Come avviso, via San Dio del Porto. Avesativa Bonata, Viva Maria a tutti! 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 Il caro delle gamline, poi il caro delle donne di Dima e poi il caro di Silvia Salatore, poi la donna salone a fianco il caro degli adolescenti e il caro degli adolescenti dell'ambulatore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.